Marika Pellegrinelli su Instagram ha condiviso alcuni momenti della sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia tra preparazione e red carpet. Oggi la modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, sta però tornando a casa e durante il viaggio ha deciso di aprire un box domande così da poter rispondere ad alcune delle curiosità dei suoi follower. Dopo una domanda sulla pillola anticoncezionale, sui consigli per un profumo e se lei abbia mai avuto problemi di perdita di capelli ecco che Marika decide di rendere pubblica anche una, delle molte, domande inopportune che le hanno scritto. Quella scelta da Pellegrinelli è molto forte, ti piace fare i pomni? Queste le parole che le sono state scritte nel box. E la modella senza starci a pensare troppo risponde così, un giorno pubblicherò tutti i profili che mi inviano domande simili, vi avverto. By the way, sono un ottimo anti-aging, ginnastica facciale insomma. In questo modo non solo ha lanciato una non così velata minaccia a tutte quegli utenti che le scrivono oscenità, ma è riuscita a dare una risposta epica, tirando in ballo i trattamenti anti-età, ad una domanda scomoda, e fuori luogo. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.